Dato che questa è un gesto di investigazione che ancora va approfondita, hanno reso delle versioni che sicuramente li coinvolgono come responsabili dell'omicidio, probabilmente con livelli diversi a secondi due soggetti, tende ovviamente a ridimensionare il suo lavoro nella vicenda, tende Sparacio a farne il fatto, nonostante una primeditazione, per una qualche ragione motivata, ma queste sono dichiarazioni che devono essere oggetto di approfondimento e vedere se sono perivieni, se non si nasconde un qualcosa invece che potrebbe essere compatibile con quello che è la nostra coscienza. L'esegutore materiale comunque è soltanto Sparacio? Tra i due che rapporto c'era, come si conoscevano Sparacio e Zerubato? Perché Sparacio mi sembra che abbia visto un baranzo, un baranzo, si conoscono e noi abbiamo conosciuto il suo zionamento. Ok.